Mentre la sinistra campana tende di capire le mosse dell'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, e della sua nuova formazione politica Italia Viva, a destra qualcosa si comincia a muovere. Il movimento sud protagonista, rappresentato sul territorio da Salvatore Ronghi e Gabriella Peluso, ha proposto a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia di definire un programma unico e convocare gli stati generali del centrodestra per presentarsi uniti al voto di maggio per la regione Campania. Il tema fondamentale per il centrodestra è partire da un programma che punti sui grandi temi della regione Campania, quindi il lavoro, quindi l'ambiente, la salute, i trasporti, per condividere un forte programma ed andare a vincere con un candidato presidente in grado di rappresentarlo. La seconda questione, oggi noi leggiamo che ci sono altri candidati presidenti che sono in campo, beh, se ci sono tanti candidati perché non lanciare l'idea di mettere in campo una partecipazione ambia attraverso le primarie, una primaria di coalizione che mette in campo sei, sette candidati politici della società civile e sia la società civile a scegliere il candidato che più si aggrada al programma che però il centrodestra mette in campo, altrimenti corriamo il rischio, come si è fatto altre volte, di arrivare a un mese dalle elezioni e poi ci si litiga e ci si prende non il meglio ma quello che capita. Io voglio vincere, il centrodestra può vincere, non può pensare di regalare questa regione al centrosinistra perché ormai è palese che c'è un nuovo centrosinistra che è formato dal PD e da 5 Stelle. Quello di Edmondo Cirielli, attuale questore della Camera dei Deputati, è il nome proposto dal partito di Giorgia Meloni per lanciare la sfida a Vincenzo De Luca. Ad esprimersi sulla proposta di un percorso condiviso di tutto il centrodestra, il deputato della Lega Gianluca canta la messa. Ma che ci siano delle aspirazioni da parte di singoli persone è legittimo, poi quello che sarà il tavolo ufficiale, è chiaramente un altro discorso, ma ritengo sia legittimo anche in passato, qualche mese fa c'era stata avanzata qualche altra candidatura. Lavoriamo sui programmi perché poi i cittadini interessano poco, quelle che sono le persone, ma soprattutto come vogliamo risolvere i problemi.